Ben ritrovati amici di Jurno.it, siamo qui per commentare la partita di oggi tra il Napoli e il Sassuolo è stata una partita come al solito meravigliosa, soprattutto nel primo tempo per merito di un grande Napoli, di un Napoli che ha spinto sull'acceleratore da subito passando in vantaggio con Onas e facendo i primi 30 minuti di un livello altissimo dopo c'è stato il rientro del Sassuolo, che è una squadra ben allenata da un allenatore che farà una grande carriera perché Roberto De Zerbi è un allenatore preparato e soprattutto un allenatore intelligente che sa leggere le partite nel secondo tempo all'inizio soprattutto più Sassuolo dove Spina è stato a tratti davvero decisivo e poi la differenza l'hanno fatta i cambi, i cambi perché quando puoi avere il lusso di far entrare dalla panchina gente come Insigne, come Caglion che entrano e ti danno questa qualità poi dopo è sempre più semplice Buona questa partita, era una partita da vincere per mantenere, per seguire anche se da un po' più lontano la scia della Juve è un applauso particolare a questo meraviglioso allenatore che è arrivato a Napoli perché chi ha giocato a Cagliari